Non ci sarebbe nessun blocco da parte della RAI nei confronti di Barbara D'Urso. La conduttrice di pomeriggio 5 e domenica live avrebbe dovuto partecipare questa sera alla puntata di carta bianca condotta da Bianca Berlinguer. Su Instagram, la conduttrice ha denunciato attraverso un post su Instagram l'annullamento dell'intervista, ma la RAI ha precisato con una nota che non si è trattato di blocco censorio ma di semplice rinvio per scelte editoriali. Questo il comunicato della RAI che, attraverso una nota diffusa alla stampa, ci ha tenuto a precisare che l'intervista a Barbara D'Urso si farà in un momento diverso per ragioni puramente editoriali. Nessun blocco nei confronti di Barbara D'Urso, che avrebbe dovuto partecipare questa sera alla puntata di carta bianca condotta da Bianca Berlinguer. Semplicemente un rinvio dovuto a una valutazione aziendale dettata da considerazioni editoriali. Tanto che alla signora D'Urso è stato proposto di rinviare l'intervista a una delle prossime puntate. Tutto è partito da un messaggio di Barbara D'Urso pubblicato su Instagram, dai toni abbastanza polemici pur precisando che tra lei e Bianca Berlinguer i rapporti sono sempre stati ottimi. Sarebbe stata la stessa Berlinguer a comunicare dell'impossibilità di realizzare l'intervista questa sera. Stasera sarei dovuta essere ospite di Bianca Berlinguer, una delle giornaliste che stimo di più in Italia e lei stima me. Lo scorso aprile, Bianca mi è invitato nel suo programma e io le ho promesso che sarei andata da lei il 28 giugno dopo il grande fratello. Poi però il 28 ero sul set della dottoressa Jo e quindi questa estate Bianca mi ha telefonato più volte chiedendomi di andare nella nuova edizione, e abbiamo concordato l'intervista per il 18 settembre, cioè stasera. Io ho chiesto l'autorizzazione al mio editore e al mio direttore generale per poter essere ospite in Rai, e me l'hanno concessa. Era tutto organizzato da tempo per una lunga intervista in diretta, con Bianca ci siamo sentite fino a ieri sera e il produttore di Carta Bianca aveva confermato tutto fino a stamattina. Poco fa, alle 12 e 30, mi ha telefonato Bianca molto dispiaciuta dicendomi che la Rai le ha chiesto di annullare la mia intervista di stasera. Grazie comunque Bianca, sai che mi faccio intervistare da pochi ma da te sarei venuta a chi se ne frega.